La maggioranza delle persone va in vacanza o la maggioranza delle persone vanno in vacanza? C'è una marea di persone o ci sono una marea di persone? Il 30% delle persone ha votato o il 30% delle persone hanno votato? Hai capito di cosa parla questo video? Ci sono delle situazioni in italiano in cui uno studente può avere dei dubbi. In realtà anche un italiano a volte ha dei dubbi perché sembrano plurali ma in realtà sono singolari. Oppure sono singolari ma... insomma c'è confusione. Ci sono parole come per esempio maggioranza, gruppo, una percentuale, la squadra, la comitiva, la mandria, l'esercito che sono chiamati nomi collettivi. Sono dei nomi collettivi, rappresentano un gruppo di persone o un gruppo di qualcosa, ok? Secondo la grammatica, quindi secondo la concordanza grammaticale, questi nomi sono sempre singolari, ok? Per esempio, la squadra ha vinto la partita. La squadra è un nome collettivo, è considerato singolare, quindi ha vinto. La maggioranza ha votato al referendum, quindi si intende una maggioranza di persone, ma la maggioranza è un nome collettivo ed è singolare in italiano. Però, però ci sono dei casi particolari. Ci sono dei casi in cui questo nome collettivo è seguito da un altro sostantivo plurale, da un complemento partitivo, si dice in grammatica, che specifica la composizione di questo nome collettivo. Per esempio, la maggioranza delle persone. specifica che la maggioranza è delle persone, o un gruppo di ragazzi. Intende quindi che il gruppo è formato da dei ragazzi. Ci sono quindi un nome collettivo, la maggioranza, più un sostantivo plurale. E in questo caso il verbo va alla terza persona singolare o plurale. Secondo la concordanza grammaticale, quindi secondo la grammatica italiana, il verbo deve essere alla terza persona singolare, perché il soggetto è il nome collettivo. La maggioranza delle persone. Il soggetto è la maggioranza, che è singolare. La maggioranza delle persone ha votato al referendum. In italiano, però, esiste quella che si chiama concordanza a senso. È una concordanza che non è grammaticale, perché non rispetta le regole di grammatica, ma fa riferimento al senso, al significato della frase. In questo caso, la maggioranza delle persone, secondo la concordanza a senso, è plurale. È considerato un gruppo di persone, quindi il verbo è alla terza persona plurale. La maggioranza delle persone hanno votato al referendum. Però, la concordanza a senso è usata ed è accettata nell'italiano colloquiale, nell'italiano informale, o comunque nell'italiano parlato, non nell'italiano scritto. Quindi, ricapitolando, quando abbiamo un nome collettivo seguito da un sostantivo plurale, plurale, per esempio, la maggioranza delle persone, secondo la grammatica, è singolare. Quindi, se usi il verbo alla terza persona singolare, non sbagli mai. La maggioranza delle persone ha votato. Ma, nell'italiano parlato, puoi anche considerarlo plurale. E quindi, la maggioranza delle persone hanno parlato. Vediamo degli altri esempi. Nel parco c'era un gruppo di ragazzi. Questa è la concordanza grammaticale. Usiamo c'era perché gruppo è un nome collettivo e, secondo la grammatica, è singolare. Però, nell'italiano parlato, possiamo usare la concordanza a senso. Nel parco c'erano un gruppo di ragazzi. Oppure Una grande quantità di bambini gioca nel parco. Concordanza grammaticale. Una grande quantità di bambini giocano nel parco. Concordanza a senso. Quindi, ti ricordo che questa seconda frase, secondo la grammatica ufficiale, non è corretta. Ma è possibile usarlo nell'italiano informale. E' importante, però, ricordare che quando nella frase usiamo un nome collettivo da solo, per esempio la folla, la gente, è sempre singolare. Quindi, la gente parla, non la gente parlano. In questo caso abbiamo un nome collettivo da solo, che funge anche da soggetto. La folla urla, non la folla urlano. Ok? I nomi collettivi sono sempre singolari. È tutto chiaro? Spero di essere stato chiaro, perché è un argomento forse un po' complicato. Ma se ci sono dubbi o domande, scrivile pure nei commenti. Sarò felice di leggerle. Ti ricordo che se non lo hai fatto, puoi iscriverti al mio canale, e noi ci vediamo molto presto. Ciao! 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 Grazie a tutti.